Dove collocare la statua originale di Santo Ronzo? A sceglierlo devono essere i leccesi, questo perlomeno secondo il sindaco Adriana Polibortone che lancia ai nostri microfoni un contest. Faremo oggi un comunicato per chiedere ai cittadini che attraverso una collo che ci dicano dove secondo loro potremmo collocare la statua di Santo Ronzo che attualmente è qui nell'ingresso principale di Palazzo Carafa dove non può stare perché sta da tanto tempo, non è invisibile né per la città né per i turisti tante volte. e allora sarà bene che i cittadini ci dicano, non sapendo come fare perché non si può fare un referendum, ancora non abbiamo le regole, allora lo facciamo attraverso un contatto diretto con i cittadini. Gli diremo che possono scrivere a sindaco chiocciolacomune.lecce.it